Santo Padre, è in previsione un suo viaggio in Argentina, è preoccupato per il suo paese? Sì, mi preoccupa, perché la gente sta soffrendo tanto lì, è un momento difficile del paese. È in piano la possibilità di fare un viaggio nella seconda parte dell'anno. Ma io vorrei andarci, a dieci anni sta bene, va bene, posso andare.